Musica Con il Presidente Rivetti e con il Vice Presidente Capasso della squadra suessola di Arienzo davvero state disputando un grande campionato per quanto riguarda la categoria giovanissimi vi ritenete soddisfatti? Sì, molto soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi stanno dando il massimo giornata per giornata calcisticamente ci stanno dando belle soddisfazioni Ricordiamo che il suessola ha diverse categorie oltre ai giovanissimi Ci sono i piccoli amici, i mini giovanissimi, gli allievi, gli esordienti Copriamo un po' tutte le fasce di età Bene, i genitori sono molto partecipi, vero, per quanto concerne le vostre iniziative? Sì, molto partecipi, specialmente con i più piccoli che hanno bisogno di essere accompagnati un po' sostenuti, un po' sostenuti perché i genitori sono piccoli quindi sono partecipi, devo dire che sono soddisfatti dei genitori dei nostri bambini Ricordiamo che il suessola è una grande società e quindi in realtà rientra nella grande società giusto calcistica che effettua anche i campionati dilettantistici Sì, sicuramente è una grande società, non perché lo dico io, perché lo dicono i risultati e il tempo sono 15 anni che questa società esiste e quindi ogni anno si fa un passo avanti senza altro, ogni anno si ha un gradino, un po' alla volta Bene, ringraziamo i dirigenti del suessola e grazie ad attenzione a rivederci alla prossima intervista Buongiorno carissimi utenti, qui collegati dallo stadio di Arienzo protagonista in questa partita, la compagine del suessola eccola nelle immagini, guidata da mister Nuzzo, timoniere della squadra il presidente Livetti, scende in campo con i seguenti calciatori Maione, Bernardo Raffa